E... azione! Occhi passi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Digli a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore. Siamo qui con Luke Gazette. Che sarei degno di uno sguardo in contatto di stato. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. E' la storia d'amore tra un uomo e un uomo. Azione! Vieni! Se fosse vero che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità. Proprio tu dovevi fare eccezione. Sei la quintessenza... Sei lì, ti mangi i cannoni siciliani guardando lo schermo. Questa tua corazza lo so. C'è una ragazza che sta all'imminico. Sopra il solito ancestrale... Odello! 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 Grazie.